Buongiorno ragazze, nuovo video, video un po' diverso dal solito perché questa volta vi parlo di un prodotto che mi è arrivato, una collaborazione con Hero Mask un prodotto veramente che mi ha colpito, mi ha colpito perché uno riguarda i bambini dai 5 ai 12 anni dove appunto hanno la possibilità di imparare le lingue, quindi la trovo veramente una cosa super ma molto ingegnosa, molto ingegnosa perché? Perché sapete che i bambini al giorno d'oggi, voi mamme mi capirete hanno a che fare con la tecnologia tutti i giorni, tutti i sacrosanti giorni e magari imparare con le vecchie metodiche, quindi sui libri a volte li annoia, quindi magari tendono a distrarsi magari voi stesse fate un po' fatica di lì, dai su, ascolta, facciamo l'esercizio no? o meno a me capita, quindi ho trovato veramente questa cosa, io non accetto tutte le collaborazioni accetto quelle che proprio mi incuriosiscono, mi piacciono, insomma, non proprio tutte e questo devo dire mi ha colpita, cosa dire? Io ho qui il prodottino, l'ho aperto adesso perché mi è arrivato tramite Corriere questa è la maschera di Hero Mask, c'è la possibilità di imparare tantissime lingue come l'inglese, il francese addirittura il cinese e lo spagnolo, insomma, tantissime lingue e funziona tramite applicazione ovviamente l'applicazione si potrà scaricare sia su Android che su iPhone, quindi su Apple Store o su Play Store dà appunto l'opportunità ai bambini dai 5 ai 12 anni di imparare tutte queste lingue ovviamente si può anche scegliere una, due, tre lingue, quello che volete tramite il gioco, quindi tramite il giocare l'apprendimento ovviamente è molto più rapido rispettivamente allo studiare, no? Rigidamente quindi qual è la missione di Hero Mask? Insegnare ai ragazzi le lingue giocando e questo mi ha incuriosito tantissimo ovviamente saprete che devo provarlo su di me perché Federico non lo posso filmare ma lui non vedeva allora che io facessi questo video per voi per poterlo provare quindi potrete solo immaginare, ma ho una sorpresa anche per voi quindi rimanete con me fino alla fine del video perché ho ottenuto dall'azienda un regalo per voi ovvero una di voi vincerà questo Hero Mask gratuitamente quindi verrà spedito direttamente a una di voi dall'azienda sono contentissima perché quando riesco a ottenere per voi codici sconto, regali io sono sempre la persona più felice del mondo quindi insomma dopo vi spiegherò tutte le regoline per partecipare e detto questo direi di andare a provare Hero Mask eccoci qua, allora questo è il prodotto che vi arriva Hero Mask, vedete fatta così la confezione dove all'interno c'è tutto, sia la maschera virtuale poi ovviamente vi servirà lo smartphone che possedete scusate, messaggi e potrete scaricare la loro applicazione come Hero Mask potete trovarla sia su Play Store che sull'Apple Store quindi sia per iPhone che Android e poi aprendo appunto la scatola in alto troverete le istruzioni adesso le ho già ovviamente dato un'occhiata e poi troverete un fogliettino come questo con il codice di attivazione che dovete inserire poi nell'applicazione per poterla utilizzare perché ovviamente attesta che voi avete acquistato la maschera quindi potete utilizzare l'applicazione correlata anche perché tanto senza maschera non funziona quindi ora lo proveremo insieme poi dopo vi spiegherò tutte le regoline per partecipare a questo giveaway a questo regalo che vuole fare l'azienda a uno di voi e niente, quindi adesso andiamo ad aprirla vediamo come si presenta la maschera proveremo a inserire il telefonino all'interno e proveremo ad utilizzarla però mi sa che mi serve anche l'altra mano eccola qua wow, veramente molto bella ecco qui, tutto ben foderato ovviamente molto molto accurato e ora andiamo a provarla adesso mi armo di istruzioni e cerco di capire come inserire anche il telefonino ma penso da qui allora, l'applicazione è questa qui Hero Mask la facciamo partire io ho già inserito il mio codice di attivazione però troverete un semplicissimo tasto con scritto code da dove inserire appunto il codicino che c'è su questo foglietto e adesso penso che sia semplicemente da inserire nella nostra maschera ci sono anche queste fascette da agganciare qui una volta aperta anche l'applicazione vado a premere qui si apre molto semplicemente si appoggia il telefono così e si chiude e poi dovete solo più indossarlo l'ho provato ed è spettacolare è veramente molto molto bello io ve lo faccio vedere da qui allora qua dovete scegliere la lingua vedete che c'è inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese e potete scegliere muovendovi vedete che se io mi muovo si seleziona vedete qua ho selezionato Francia ovviamente indossandolo è molto più semplice qua si inserisce l'inglese per esempio con questo tastino andate a lanciare un laser per confermare la vostra scelta andrà a caricare e adesso vi assicuro che non rende perché è difficile vi spiega che dovete selezionare il colore che lui vi dice quindi se dice black con laser andate a colpire vi muovete colpite il black eccetera eccetera c'è un sacco di esercizi ma vi assicuro che è bellissimo perché vi fa vedere proprio i pianeti è veramente super 3D ed è qualcosa di meraviglioso cioè mi è piaciuto un sacco mi sono divertita allora adesso mi sta facendo vedere tutti i giochi che ci sono ci sono gli sport per esempio no ho perso comunque ci sono veramente un sacco di giochini ragazze è molto molto bello quindi ragazze per partecipare al giveaway perché vi avevo promesso che a fine video vi spiegavo bene un po' tutto allora l'azienda spedirà direttamente in omaggio questa maschera con codicino per attivare l'applicazione quindi è un regalo che vi fa direttamente l'azienda e le regoline per partecipare a questo premio sono semplicissime quindi dovete essere iscritte al mio canale e seguirmi su Instagram dove io cerco sempre di essere molto presente di coinvolgervi anche per le scelte dei video l'orario vi avviso quando ne pubblico uno insomma un sacco di cose quindi seguitemi perché se i miei video vi piacciono magari vi fa piacere seguirmi anche lì quindi le regoline sono appunto essere iscritti al mio canale seguirmi su Instagram e lasciare un commentino qui sotto uno solo per ognuno di voi perché lo utilizzerò per scegliere appunto a chi dare il premio sceglierò magari il commento più originale o non lo so così a caso insomma non andrò a fare estrazioni sceglierò chi in base all'originalità del commento in base a cosa non lo so sceglierò così proprio a a piacere e niente quindi questo è queste sono le regoline io spero che vi faccia piacere perché quando ottengo comunque qualcosa per voi sono sempre strafelice quindi insomma qui c'è il la maschera io spero che questo video vi sia piaciuto vi lascio tutti i link del caso qui sotto nell'info box quindi troverete il link diretto di Amazon al prodotto così se vi è piaciuto e magari non avete vinto il giveaway lo potrete acquistare per i vostri bambini o eventualmente per fare un regalo di compleanno di Natale o ad amici insomma è una cosa molto utile e istruttiva e trovate anche i link appunto del mio Instagram per seguirmi il link diretto per iscrivervi al mio canale anche se basta cliccare su iscriviti e attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche e credo di avervi detto tutto quindi vi metto anche il loro sito insomma tutto quello che riesco tutte le informazioni che riesco a darvi io vi mando un grande bacio grazie per la compagnia e al prossimo video bocca al lupo a tutte e vinca la migliore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti